Quindi mi sta dicendo che il mio target è formato da donne, perché mi serve questo? Perché il mio copy dovrà essere collegato alle donne, la mia campagna dovrà essere collegata alle donne, la mia landing dovrà utilizzare i colori delle donne, tutto dovrà essere collegato alle donne. Se lo vedono il 75% delle donne, 80% delle donne vuol dire che il mio target è donna. Quindi devo avere la forza di creare un messaggio solo per donne, il messaggio forte. Quando uno dice il primo parquet per donne è costruito da una donna per sole donne. Provate a pensare, cosa ne sanno gli uomini del parquet? Pensate a cosa comporta in una donna che sente un messaggio del genere, che già ha sempre l'antagonismo con l'uomo, ok? Il fatto che deve emergere, che deve riuscire a targettizzare bene su un target preciso è fondamentale, ragazzi. È importantissimo. Quindi in questo caso abbiamo visto con Pinterest che il target principale è donna. E poi vado a vedere i pin principali, i pin più popolari.